Torniamo al nostro 2023 con un faro dedicato alla politica nazionale cittadina e quest'oggi faremo il focus proprio partendo dalla città di Napoli con il nostro prossimo ospite, il leader di Unione Popolare Luigi De Magistris qui con noi a Mattina Live. Buongiorno, buon anno. Come sta? Bene, grazie. Dunque, tanti temi di cui discuteremo insieme quest'oggi. Partiamo proprio da questo 2023 che effettivamente per gli italiani non è iniziato nel migliore dei modi, tra rincari e anche inflazione, la situazione si fa sempre più complicata, sempre più delicata. Le chiedono un suo parere personale se effettivamente si poteva fare qualcosa di più proprio ad inizio anno. Ma non c'è dubbio, la manovra economica colpisce i ceti medi, le persone povere, le famiglie, gli imprenditori, l'aumento della benzina, le bollette, non si adeguano salari e pensioni all'inflazione. Allora uno può dire ma avevamo un'alternativa, il governo aveva un'alternativa. Certo, tassare per esempio chi ha speculato sul gas e sull'energia, ci sono persone che sono vatti miliardi di euro, sono poche famiglie. Si tassava là, si colpiscono le grandi rendite finanziarie o chi ha una quantità enorme di patrimoni immobiliari. Invece nonostante la Meloni avesse detto quando andremo al governo taglieremo le accise, cioè le tasse sulla benzina, questo non è accaduto e c'è una stima. Si pensa che nel 2023 tra caro bollette e caro benzina ci saranno circa 2.500 euro in più a famiglia di spese. Riuscire dal genere il problema economico, lo sta dicendo anche lei, lo stiamo commentando, perché effettivamente a spaventare gli italiani è il ritorno al caro benzina, però appunto il governo aveva promesso inizialmente un cambio di marcia, un cambio di rotta, questo cambio in realtà non c'è stato. Ma potevano ad esempio anche togliere l'iva sui beni di prima necessità e invece aumenta il pane, aumenta la pasta, aumentano i beni di prima necessità, si toglie il reddio di cittadinanza. In Spagna per esempio hanno agito diversamente, hanno messo il salario minimo per i lavoratori, hanno adeguato le pensioni all'inflazione, colpiscono chi ha di più, con grandi disuguaglianze. Che cosa devi fare in un momento difficile? Devi cercare di ridurre, non dico eliminare, ridurre le disuguaglianze. Se invece questo governo, seguendo per la verità anche un po' quello che aveva fatto il governo Draghi, che poi non è che possiamo mettere la croce addosso tutto a questo governo, consolida chi ha di più e colpisce anche con un po' di cattiveria, come nel reddio di cittadinanza, chi ha meno. Senta, è una situazione sicuramente molto delicata, ci aspetterà un 2023 da un punto di vista economico sicuramente complicato. Secondo lei riusciremo a vincere questa sfida? Il governo riuscirà a vincere questa sfida? Tutti bisogna essere sempre ottimisti. Un grande paese come l'Italia, anche se i governanti certe volte sono mediocre, non è che si può rassegnare al fallimento o alla sconfitta. Il momento è difficile, ci sono tanti eventi che ci danno incertezza, come la guerra, perché certo se termina la guerra è più facile uscire dalla crisi, ci sono crisi congiunturali, c'è il tema dell'energia, c'è il tema della pandemia che comunque continua ad avere effetti, c'è il PNRR che potrebbe essere una grande opportunità per fare un cambiamento sul piano ecologico, sulle infrastrutture, sui diritti negati, sarà così? Non lo so, staremo a vedere. Si parla di una negoziazione anche per quanto riguarda i fondi del PNRR da parte della Meloni, in questo caso. Per ora i governanti si sono mostrati probabilmente peggio di quelle che sono le aspettative del popolo, non penso solo alla Meloni, il PNRR finora non ha dato l'idea di una svolta, noi abbiamo la sanità, andiamo a vedere pure la manovra economica sulla sanità, nel 2024 avremo meno risorse che prima della pandemia, cioè noi abbiamo avuto la pandemia che ha mostrato le lacune della nostra sanità, noi mettiamo meno soldi e non togliamo le strutture, c'è gente che non fa prevenzione, c'è gente che non si cura, però magari proliferano centri alternativi dove le persone devono pagare per curarsi, i diritti negati e l'autonomia differenziata mette il carico da 90 perché rende il sud ancora più indietro, più in difficoltà e chi è più ricco sta meglio, quindi il quadro non è positivo ma non deve essere un elemento demoralizzante, si deve stimolare tutti quelli che la pensano diversamente ad agitarsi, a darsi da fare perché altrimenti diventa rischioso. Senta De Magistri, veniamo alle questioni legate proprio anche alla nostra città e vorrei proprio commentare con lei la posizione che l'ha vista protagonista in queste ultime settimane perché lei è stato molto critico con l'amministrazione Manfredi in merito al caso Catergate che ha investito il Comune di Napoli con l'affaire Cozzolino, il parlamentare europeo che sarebbe appunto coinvolto nel Catergate e che per l'appunto è nella cabina di regia della metropolitana per la gestione dei fondi anche del PNRR, lei a proposito ha chiesto per l'appunto immediatamente una revoca ed è nato appunto un dibattito col sindaco Manfredi, possiamo spiegare a pubblico qual è la sua posizione? Guardi, in estrema sintesi, ho fatto delle domande al sindaco, delle domande da ex sindaco, da cittadino, da ex magistrato, da persona attenta. È stata istituita a metà febbraio del 2022 una cabina di regia nella città metropolitana sul PNRR, fondi pubblici e fondi europei, cabina di regia tecnica guidata dal sindaco, quindi nella cabina di regia ci vorrebbero i dirigenti, i funzionari, invece ha messo, guarda caso, un eurodeputato, guarda caso Andrea Cozzolino, innocente, presunzione di innocenza, garanzie per tutti, sto facendo un discorso politico, perché metti proprio Cozzolino che era comunque anche quello dei cinesi alle primarie del PD, personalità discusse, comunque un esponente di partito, di apparato, coinvolto nel Qatargate, nel senso che la magistratura belga ha chiesto la revoca dell'immunità di Cozzolino, girano soldi, Panzeri è stato arrestato, un eurodeputato, eccetera. La domanda che ho fatto, perché? E il sindaco sa che risponde, non è che dice l'ho scelto perché, dice no, vabbè, ma tanto la cabina di regia non si è costituita, è come per dire che allora c'è un problema, che non la vuoi far costituire perché c'è Cozzolino, incalzato, dice no, vabbè, aspettiamo la magistratura e poi vediamo, la magistratura farà il processo fra due o tre anni se lo fa e noi che tiriamo la cabina di regia ferma, è una semplice domanda, perché hai scelto Cozzolino, te l'ha indicato il partito, te l'ha indicato tuo fratello che è un esponente del Partito Democratico, la gente deve sapere questi soldi pubblici in mano a chi stanno, se il sindaco non ha nulla da nascondere, la faccia funzionare la cabina di regia, difende a Cozzolino oppure lo revoca, visto che è stato anche sospeso dal Partito Democratico, è un po' strano, devo dire, che viene messo un politico a gestire il denaro pubblico, che sappiamo il denaro pubblico quante volte è andato in mano sbagliata, invece che diventare occasione per aumentare i servizi, è diventata occasione per squali della politica, di mangiarsi anche l'anima di questa città. Invitiamo appunto la controparte a restituirle una risposta. Ma sono domande, anzi magari potremmo fare pure un confronto. Invitiamo per l'appunto la controparte a replicare magari per un confronto, a questo punto però le chiedo ecco di ampliare proprio la questione, perché la querella, quella legata a Catarghiere, effettivamente ha scomolto l'Europa intera, allora io le chiedo un suo parere in merito, come siamo arrivati a questo punto secondo lei? Guardi, questa è di una gravità inaudita, cioè si è arrivata a ipotizzare che paesi stranieri corrompano deputati della più importante istituzione democratica europea per cambiare gli indirizzi politici e in che materia? Sui diritti umani, Qatar, Marocco, Mauritania, cioè per nascondere le violazioni di diritti umani, i diritti umani significano oppressioni ai confronti delle donne, torture, arresti, morte, migliaia di persone morte per costruire gli stati, in Qatar valigette di denaro che avrebbero corrotto, usiamo sempre il condizionale, ma i soldi sono stati trovati per cambiare l'indirizzo politico sui diritti umani. Io credo che la situazione è ancora più grave di quella che emerge, perché non ha senso corrompere una persona, due persone, tre persone, salvo che non si pensi che corrompere quelle tre significa influenzare tutti gli altri, oppure è ancora più vasto, per ora si stanno trincerando dietro all'immunità parlamentare, io mi auguro che si vada fino in fondo perché questa è una vergogna. Parliamo di parlamentari europei che guadagnano 15 mila euro al mese, diciamolo a quelli che non hanno il salario minimo, le pensioni da quattro soldi o che perdono il reddito di cittadinanza, Cozzolino sta là da 15 anni, da 15 anni piglia 15 mila euro al mese, lo stesso Panseri, parlavano di persone ricche, ricche però Panseri e la vicepresidente del Parlamento europeo giravano con i trolley pieni di denaro, è una vergogna. Invitiamo sempre loro a replicare qualora lo volessero, intanto questo è un caso sicuramente di cui si parlava ancora tantissimo, però restando sempre sull'amministrazione comunale, volevo commentare con lei anche un altro aspetto, perché se con indiscrezioni avrebbero, insomma, ha deciso di andar via gli assessori e De Jesu e Mancuso, sicuramente dopo un anno l'amministrazione comunale comincia a perdere dei pezzi importanti, perché secondo lei? Che cosa sta accadendo? Io credo la maggiore critica, con rispetto perché li conosco entrambi e ho un buon rapporto sia con Paolo Mancuso che con Antonio De Jesu, ma la principale critica che mi sento di fare è che la città è fuori controllo e parliamo di un ex procuratore della Repubblica e di un ex questore, quindi la loro principale di responsabilità, pur conoscendo il problema, hanno contribuito a una città in cui non c'è più un controllo, non ci sta più un'efficacia di azione preventiva, sembra che ognuno fa quello che gli pare e quindi si sta perdendo la visione, la direzione, la guida e abbiamo appunto un rettore che però potrebbe non avere competenze in questo settore, che è il sindaco, ma un ex procuratore della Repubblica, del livello di Paolo Mancuso, un ex questore del livello di De Jesu, penso che da questo punto di vista hanno fallito completamente. Se pensiamo anche, e chiudo, che questa amministrazione a differenza della nostra, dove ci hanno deliberatamente e dolosamente sottratto del denaro, ha avuto i soldi e ha da mesi soldi in cassa, cioè significa che possono avere più personale, più risorse e più mezzi, i servizi sicuramente non sono migliorati. Ecco, questo è un ulteriore elemento per riflettere anche sulla competenza, sull'adeguatezza, del resto io so che molti di loro vanno a mezzo servizio a Palazzo San Giacomo, cioè se uno pensa di fare l'assessore part time in una città come Napoli, dopo che si sono quadruplicati lo stipendio, perché il sindaco, a proposito di soldi, più a 13 mila euro al mese, se l'è quadruplicato, sono tutte sottolineature che penso sia il diritto di un cittadino, io adesso sono un umile cittadino della città, certo ex sindaco, ma ho il diritto di rispondere, dall'altra parte sembra che non vogliono, ho il diritto di fare domande, sembra che non vogliono nemmeno rispondere a delle sollecitazioni. Ed è quello che stiamo chiedendo anche contestualmente attraverso questa nostra chiacchierata insieme, facciamo però, eccole, stiamo sulla nostra città facendo una piccola digressione, perché per l'appunto relativo alla nostra città ed è una situazione che comunque ha sconvolto anche noi cittadini, ovvero il tema degli scontri ultras sulla A1, dopo i fatti avvenuti c'è, lui dice, chi invoca una nuova stretta, c'è bisogno di un intervento legislativo e se sì, di che tipo? Ma innanzitutto condanniamo veramente senza tentennamenti quelle immagini che sono indegne, inqualificabili e inaccettabili. Là si è rischiato grosso che potesse accadere non solo un ferito grave o un morto tra le tifoserie che si scontrano, ma persone che stanno sull'autostrada, in un autogrill. Credo che anche le forze di polizia si siano fatte trovare forze un po' impreparate. Come si interviene su questi avvenimenti che accadono a molti come in distanza dallo stadio? Questi sono reati gravi, quindi la magistratura e le forze di polizia individuano i responsabili e ci vogliono condanne e pene esemplari, perché si fa una rissa nel mezzo dell'autostrada, si blocca un'autostrada, si mette a ripetaglio la sicurezza pubblica di centinaia di persone, di bambini, di persone anziane, è una cosa inaccettabile. Quindi ci vogliono condanne severe e poi il solito tema, che ce lo diciamo da tanto tempo, sul calcio bisogna fare delle riflessioni anche su sanzioni adeguate, altrimenti in Inghilterra quando successero fatti molto gravi ci sono state scelte e decisioni molto gravi. Invece si rinvia sempre, si aspetta sempre qualcosa di più grave per intervenire. Anche perché sembrano essere dei fatti premeditati, prescindendo proprio dallo sport. Ma anche qui perciò mi sono con garbo, forse una sottovalutazione di chi doveva prevenire, perché non è che queste cose si improvvisano. Centinaia di persone che si incontrano per scontrarsi, quantomeno in una chat, quantomeno in un TikTok, quantomeno in qualche mail, in qualche telefonata e sappiamo che molte di queste persone comunque sono monitorate, io penso che si poteva prevenire. Ricordiamoci che noi abbiamo avuto la tragedia di Ciro Esposito e io me lo ricordo come l'ordine pubblico fu gestito malissimo a Roma durante la finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Quella è la stessa stazione di servizio dove è morto qualche anno fa un altro tifoso. Insomma questa volta complessivamente sul piano dei danni fisici è andato bene, ma è stato così per coincidenza che è andato bene. Grazie per essere stato con noi, troveremo il leader di Unione Popolare Luigi De Magistri sicuramente per commentare i fatti relativi alla politica cittadina e nazionale. Buon lavoro e a presto. Pubblicità restate con noi, anzi piccolo break.